Dimissioni, 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 dimissioni. Un sacco le piazze in Italia che si sono mobilitate perché tutto il paese si è indignato per questa campagna vergognosa. È un insulto alla nostra generazione chiedere di fare figli e poi toglierci i diritti sul lavoro come col job act. Cialala siamo in attesa, cialala siamo in attesa, cialala siamo in attesa, cialala siamo in attesa i diritti, siamo in attesa di un lavoro, un lavoro dignitoso. Per favore non forzate questo cordone, è pericoloso, poi la ministra Lorenzi si arrabbia per questo governo e così non è.